Eccoci tornato dopo la bacheca musica con Pitta Mantillo, naturalmente io mi astrego dai canzanti che vedranno il banana show per come cantare loro. Io mi astrego, mi astrego. Perché lo canta male? No, non è perché canti male, però vogliamo mettere te con Branduardi. Alla Fiera dell'Est di Branduardi, non c'entra nulla ora, ma io so che a te piace molto Branduardi. Alla Fiera dell'Est, per due soldi, una banana a mio padre compro. No, a te la banana da bambino so io dove te l'hanno messa. Comunque, ora volevo leggere una cosa, eccola qua, il sondaggio, il sondaggio amici Facebook, il sondaggio. Quando volete, la banana secondo voi va gustata d'inverno o d'estate, no? C'è una persona che mi ha detto, io gusto le banane tutti i giorni. L'estate e l'inverno questo gusto del barame, tutti i giorni. Era Marco, se firmavamo Marco, non so chi sia, salutiamo Marco, grazie della risposta. Ora, Marco, la banana fa bene, è nutriente, ma tutti i giorni, e io l'ho detto anche a lui, e dopo, e brucia, baci piano. In tutta confidenza Marco, anch'io, fino a poco tempo fa la consumavo tutti i giorni. Prima che si cominciasse a ideare questa nuova edizione del banana show, io la consumavo tutti i giorni, in tutta confidenza. Amici Facebook, Facebook, mi preoccupa alquanto, la faccenda. Poi c'è Federica, ha detto una cosa interessante Federica. Che ha detto? Io la banana me la gusto prima di andare a letto e la mattina appena sveglia. Il problema è che la finisce sempre il mio uomo. Mi sembra, voglio dire, chiaro, no, la faccenda, insomma. Quindi, cosa c'è di strano anche in questo caso? No, non lo dà, però c'è una che siamo anche Federica, il salone del caffeleria. Federica, ciao. E poi l'ultima persona che mi ha detto io la banana me la gusto a primavera. E giustamente, giustamente a primavera perché io avevo chiesto estate, inverno. È chiaro. l'ultima primavera. È stagione, sono qua. È stagione. È stagione. Eh sì, in effetti. Ti hai già detto che la gusto è più di inverno, come mai? No, io veramente ho detto in autunno. In autunno, come mai in autunno? Sì, perché ti fa continuare l'estate, voglio dire, come se non fosse mai passata. Dal momento in cui io sono soggetto, l'estate è appena alle porte, quindi non ti dico quante banana ho consumato quest'estate. Io ovviamente alla porta ho messo un male. Alla porta? Hai detto l'estate alle porte. Ah no. Ah, era un modo di dire. Ah no. che segnava alla porta? No, no, buono, no. Sei bella anche lei? No, no, no. Non ha detto nulla. Ma sei bella anche lei? Sì, lo so, lo so. È così. Vì, avvicola. Lo dà un bacino? No, 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 no. Vedi, la tabla, vedi. Quante? Eh, sì, perché c'è un... che ha la panca, vedi. E dicevo, ah, ma domanda importante. Perché la Mosco due anni fa, anzi, perché sono già passato i due anni nella prima edizione, noi ci siamo fatti una domanda essenziale per la banana. Sentiamo. E prima di lanciare la prossima bacheca? Io ti faccio la domanda e ti rispondi secco, eh? Ti piace di più la banana al cioccolato o con la panna? Mi piace di più la banana o la panna? Non avevo dubbi. Alla prossima bacheca col poeta. Bacheca, poesia, bananosa. Ciao amici Facebook e ciao amici YouTube. Se mi chiamo Poeta Sagai, se c'è un motivo, scrivo poesie, mi parli dei seri e ho tutto e voglio oggi una poesia che ci fai la banana. Ma venite, questo è una nota. Non avere nostalgie, non soffrire di mai. La banana è un poesia. Il frutto più frequente fa impazzire il senso. Se di banana metti panale, la risata non ti può mancare. Se poi la riesci anche a costare. Il demorale sicuro questo mi pare. Ogni banana può la sua cana. Mecca ancora una volta a settimana. Dove essere il soggetto della tua. Eccoci tornati con la poesia bananosa. Ti è piaciuto a te? A me sì. Devo essere sincero, dirò, dirò, anche scritta in tua presenza. Ma certo. In una serata un po' molto particolare. Le risate erano tutto tra me. Ma certo, ma te l'hai tirata fuori così, in una maniera. Ma aspetta. No, no, aspetta. La poesia, eh. Non la banana. Io non tiravo fuori nulla, eh. No, no, no. Ecco. Ma stanno, si sa mai che si raccapi male. No, ma te la tiravo fuori in un modo così spontaneo che ci stavo dicendo, appunto. Perché se tirano fuori le banane vi si arrovinati, eh. No. Però, vabbè, lasciamo freddere. Sì, è meglio. Comunque, insomma, se ti è piaciuta, tanto infamate me ne potete mandare. Ricordiamo sempre, pagina poe da Sunrise, e mister banana. Bananana. Se ci volete contattare, ci volete infamare, ci volete giudicare, ci volete tro... No, quello no. Quello no. Però... Ricordatevi anche che noi vogliamo che voi partecipate, non noi. Quindi... Se ci volete andiamo a serie. Scrivete, andate da lui. Se invece volete fare una piccola donazione per due poveri deficienti, venite da me. Chiarissimo. Questo è un po' come si diceva. Ora si manda il nostro corto, e in frattempo noi si può ammaggiare una banana, va? Baccheca, barzellettando, con, pinta, vampiro. Ciao a tutti, ciao Banani. E adesso vi racconterò qualcosina, diciamo, qualcosina di bellino, e spero che vi piaccia, insomma, perché due carabinieri, quante volte avete visto due carabinieri insieme? Io sempre, mamma mia. Insomma, gli entrano in un bar, gli resti due, e uno li fa a quell'altro. E che tu prendi te? E quello che tu prendi te? E allora gli arrivi il cameriere e gli fa due caffè. E quell'altro anche a me due caffè. Grazie. Lo sapete che dice una banana a una mela mentre ciò non ha carte? Pesca. A seconda delle posizioni geografiche, magari pesca, 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 pesca. Insomma, gli risponde così. Insomma, ci sono due amici di ghioccio che vanno verso la ferrovia e arrivate una, la via c'è acqua e l'altra, no? Attraversiamo, che si attraversa la ferrovia, insomma, e l'altra gli risponde, ma che tu sei matta? Tra due ore passi il treno. Grazie a tutti e ci rivediamo alla prossima Bacheca. Bacheca, notizie esistenzialmente esistenziali. Ciao amici Facebook e ciao amici Youtube. Siamo alle notizie esistenzialmente esistenziali con la mia scimetta, bella, e ci siamo fatti le belle risate a leggere questa bellissima notizia. Allora, se arriva la Nugtella, la Nugtella cosa sarebbe? È una crema di cioccolata nocciola e marihuana, appuntate voi. La notizia la veda, perché vera, comunque ve la leggo, se mangiare pane e nutella per voi era diventato una sorta di droga, è perché non avete ancora provato la Nugtella. Vero? È buona la Nugtella. Non si tratta di uno scherzo, la nuova crema spalmabile è stata lanciata sul mercato, quindi l'hanno presa e vai, in California, Stati Uniti. Sì, hanno realizzato con noccioli, cioccolata e marihuana la Nugtella, una specie di imitazione della nostra Nutella. Quindi ragazzi, tutti in California a mangiare la Nugtella e aggiungete una banana. Sai Pinta, oggi ho mangiato una banana. Ah, quindi voglio dire che sarai in forma, spero, perché una banana mi rende la vita più sana, se sa. Poi, dopo una banana mi sono fatto un controllato di banana. Ah, addirittura, quindi voglio dire ancora più in forma. Il controllato sta bene. Sì. Prende la mente non solo sana, ma anche divertente, dopo tutto. Sì, però c'è un fatto. Sentiamolo. Mi sento tutto un bananato. Ciao. Ciao. Ciao.